Il percorso di acquisizione di LGH da parte di A2A è sempre più accidentato. Dopo l'antitrust ci si mette pure l'autorità nazionale anticorruzione a guastare il sonno, i soci della Holding, della quale fa parte anche AM Cremona. Perché, come anticipa oggi il Corriere della Sera, è proprio a questi soci che ha scritto il presidente dell'ANAC, Giuseppe Failla, invitandoli a fornire tutta la documentazione necessaria e a chiarire perché mai A2A sia stata individuata come operatore economico che acquisterà il pacchetto di maggioranza della società attraverso trattativa privata e non una gara pubblica. Perché non è stato indetto un appalto? Ci si chiede. Non ci vuole molto per capire che l'anticorruzione inizia ad avere qualche sospetto sul fatto che l'operazione non sia propriamente una partnership, ma una vera e propria fusione, sospetti che tre mesi fa erano stati messi nero su bianco in un esposto dei parlamentari e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, firmato anche da 26 cittadini. Una gara pubblica era stata richiesta anche dai sindaci di Rovato, principale azionista Cogeme, e di Cazzago San Martino, seguiti poi dai 5 Stelle, dalla Lega Nord e i Fratelli d'Italia di Cremona che hanno sempre parlato di svendita. Dall'altra parte i sindaci del PD monolitici nella loro convinzione di dare il via al più presto possibile all'operazione che ora, oggettivamente alla luce di quanto sta avvenendo, inizia a presentare qualche ombra, tra le quali il rischio di pesanti sanzioni. Insomma, come diceva Marzullo, iniziamo a farci delle domande e anche a darci delle risposte.